Ancora in diretta a nostra compagnia, adesso parliamo di Camorra, una notizia naturalmente sotto gli occhi di tutti e soprattutto delle cronache internazionali, non soltanto delle nostre parti, la condanna all'ergastolo del boss Marco Di Lauro a seguito dell'assassinio avvenuto nel 2005 di Attilio Romano, un avvenimento che stravolge un po' se possiamo dirlo i canoni della Camorra tutta, perché insomma viene a mancare un boss di un'importanza assolutamente rilevante, lo sa bene Simone Limeo che è sempre attento a certe dinamiche e a questo argomento. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora se sei d'accordo io ripercorrerei un po' le tracce di questa condanna, perché bisogna far bene il punto della situazione per arrivare a determinare quali saranno le prospettive presenti e future della Camorra. Sì, questo è un processo che arriva in corte d'appello dopo un lungo iter giudiziario che ovviamente non si è concluso perché si tratta di una sentenza di condanna all'ergastolo di secondo grado, quindi c'è la possibilità ancora per la difesa di impugnare e ricorrere in Cassazione che già in una precedente circostanza aveva annullato la condanna e rimandato il procedimento in corte d'appello. Chiaramente la questione è tutta giocata sulla attendibilità dei pentiti dei collaboratori di giustizia della Faida di Scampia che tra il 2004 e il 2005 insanguinò l'area nord di Napoli con oltre 80 omicidi. Perché questo? Perché sostanzialmente i collaboratori riferiscono circostanze aggravanti rispetto alla posizione processuale di Marco Di Lauro. Quindi bisognerà capire come questo tipo di informazioni del relato possa poi essere valorizzato in sede processuale come prova a carico di Marco Di Lauro. Quindi esultiamo per questa condanna all'ergastolo in appello, però teniamo sempre presente che c'è la Cassazione che già in precedenza ha annullato. Questo non significa ovviamente che succederà di nuovo, però bisogna comunque attendere. Intanto questo è un caso che va avanti da 14 anni, però che cosa succede all'interno della Camorra, Simone? Perché sta avvenendo un vero e proprio terremoto all'interno della stessa, come riportato dal sito Stilo24 che tu dirigi, perché è stato riportato che si sarebbe pentito l'ex braccio destro di Di Lauro Tamburrino e che cosa può significare questo pentimento? E all'interno del mondo camorristico e all'esterno, insomma, in vista di quello che poi dovrà essere l'esito della Cassazione? Salvatore Tamburrino ha una storia molto interessante dal punto di vista criminale perché è probabilmente colui che dà poi alle forze dell'ordine, nell'occasione Di Lauro fu arrestato in un blitz congiunto, carabinieri, polizia, guardie di finanza, le coordinate per riuscire a scovarlo in un appartamento anonimo di Chiaiano. È interessante perché Tamburrino decide di costituirsi alla squadra mobile subito dopo aver ammazzato, per motivi di gelosia, la moglie che voleva lasciarlo. E quindi Tamburrino è colui che custodisce i segreti e che probabilmente ha già iniziato a raccontare della latitanza di Marco Di Lauro. Oltre probabilmente non andrà perché non aveva quel livello criminale così elevato da poter immaginare che lui sappia dove sono stati investiti, dove sono stati riciclati i miliardi di vecchie lire, le decine di milioni di euro attuali che il clan ha guadagnato in 20 anni di potere assoluto su Scampia e Secondigliano e i comuni limitrofi. Stiamo parlando di un clan e di un boss in particolare, non è caso soprannominato Ciruzzo Milionario, che incassava un miliardo di lire al giorno. E che ha iniziato l'attività diversi anni fa. E che ha una partita IVA criminale che è risalente almeno agli anni 90. Però ti vorrei chiedere, tu dici giustamente, ci sono degli esponenti di spicco maggiore, non può in qualche modo stravolgerne le direttive del clan pur parlando dicendo delle cose. Però è pur vero che Tamburrino è stato proprio accanto a Marco Di Lauro per diverso tempo e anche in maniera molto ravvicinata. Che cosa spinge un elemento criminale a costituirsi dopo tanti anni di vicinanza a un boss così forte? Il pentimento di Tamburrino ovviamente credo che sia dettato dalla circostanza aggravante nel suo caso dell'omicidio della moglie. E quindi a quel punto con una famiglia distrutta, un rapporto familiare disintegrato dalla decisione folle di ammazzare la mamma dei tuoi figli non gli restava altro ovviamente che passare dalla parte dello Stato. Il che ci fa piacere ma ci fa riflettere anche sulla utilità di alcune collaborazioni con la giustizia per sgominare le organizzazioni criminali. Si sono pentiti personaggi di spessore ben più elevato di Tamburrino. Penso ad esempio ai fratelli prestieri che comunque non sono stati in grado di indicare dove si trova la cassaforte del clan. Quindi quello che potrà dire Tamburrino è probabilmente legato all'articolazione territoriale del clan. Chi manteneva i cellulari, chi li andava a comprare, chi cambiava le schede, chi faceva la staffetta con l'auto... Nel seguire molte inchieste sentiamo spesso dire che molti boss tentano delle strategie per evitare l'ergastolo. Ma di cosa si tratta nello specifico? Perché non è molto chiaro. Se puoi farci capire... Questa è una strategia che in realtà è stata mutuata dai terroristi degli anni 70, la dissociazione. Io mi dichiaro colpevole dei reati che mi vengono contestati però senza chiamare in corretà i miei complici. Le strategie di questo tipo portano ovviamente a delle premialità, portano a dei benefici in sede processuale perché ci si attribuisce la responsabilità degli atti criminali che sono oggetto del processo e si ottengono degli sconti di pena. Questa strategia è particolarmente utilizzata e dilagante quasi nel clan degli scissionisti che è poi il clan avversario di Lauro che nelle ultime settimane e comunque andando indietro nel tempo anche negli ultimi mesi ha dimostrato un certo ricorso, una certa frequenza nei confronti di questa strategia per ottenere degli sconti di pena. Persone boss che dovrebbero essere condannate a 30 anni di carcere riescono a ottenerne 20-18 in questo modo. Con il tuo ausilio io preferirei ad andare un po' dentro i fatti. Per esempio ti chiederei tu che segui questa vicenda, saranno almeno 10 anni che segui questo clan, altri, sei addentrato. Non se l'aspettava un boss di questo calibro, una mossa del genere da parte comunque di collaboratori, da parte di persone che gli sono vicini? Cioè il boss deve sempre restare guardingo rispetto a certe situazioni. Ma non si può restare guardinghi per sempre perché poi la storia delle mafie dimostra che tutti i grandi latinanti... Perché noi c'è un po' la psicologia del boss che è interessato a sapere. No ma tutti quanti vivono ovviamente con estrema preoccupazione la loro condizione di latitanza o comunque di libertà temporanea perché non c'è criminale che non sappia in cuor suo che prima o poi finirà in carcere. È finito in carcere dopo 43 anni Provenzano, è finito in carcere Rina dopo quasi 30 anni, è finito in carcere Cutolo, sono finiti in carcere tutti. L'unico che resta è Matteo Messina Denaro che comunque sta subendo delle fortissime pressioni dal punto di vista investigativo, tant'è che gli hanno arrestato quasi tutti i fiancheggiatori. Un boss che si trova ad affidare la propria libertà e di conseguenza la propria vita perché nel momento in cui tu entri in carcere non esci più a un affiliato chiaramente è come se affidasse la sua vita al caso, alla sorte. E un boss così potente come Marco Di Lauro di cui stiamo parlando oggi non si è preparato a questa eventualità di utilizzare una strategia per evitare poi un ergastolo qualora dovesse essere? Ma questa potrebbe essere una chance da giocare eventualmente a conclusione di un nuovo processo, ma sono strategie che sono già presenti dal punto di vista proprio della possibilità di adesione nelle varie tattiche processuali dei singoli boss. Quindi questo è sicuramente una delle strade, tant'è che è la strada intrapresa da un altro boss di elevatissimo spessore che si chiama Raffaele Amato, che proprio pochi giorni fa ha annunciato alla Corte d'Assise davanti a cui è imputato di omicidio di essersi pentito di non aver evitato questo duplice delitto e di scrivere una lettera per chiedere perdono. Probabilmente questa lettera gli permetterà di arrivare in Cassazione non con la condanna all'ergastolo ma con una condanna sicuramente inferiore. Si arriverà alla Cassazione? Si arriverà sempre alla Cassazione. Per chiudere, che cosa cambia adesso nell'apparato camorristico dopo questa cattura? Io credo che la camorra come l'abbiamo conosciuta negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, non esista più ed è una cosa che è importante ribadire perché non esiste più il clan di Lauro, non esiste più il clan Mazzarella, non esiste più il clan Giuliano così come era strutturato 10, 15, 20 anni fa. Adesso esistono dei gruppetti pulviscolari, esistono i baby boss, esistono le paranze, esistono gruppi criminali non meno pericolosi ma meno strutturati dal punto di vista criminale, territoriale contro cui le forze dell'ordine e la magistratura si trovano a combattere e a vincere anche in maniera abbastanza agevole. Basterebbe pensare che oggi assistiamo al controllo del centro storico da parte di 8-10 soggetti quando un tempo il clan Giuliano aveva 100 affiliati. Grazie, grazie a Simone Di Meo per essere stati in nostra compagnia, grazie per averci illustrato nel dettaglio quella che è una causa che le cronache di tutto il mondo stanno inseguendo da molto tempo. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti.